Buonasera a tutti, in studio con me Totti Mancuso, che è il partner, il compagno di lavoro di Totino Lamantia, quindi Totti e Totino. Ho il piacere di averlo da solo perché Totino è impegnato a Catania in un'altra trasmissione, quindi non può essere presente qua con noi. Abbiamo diviso la Sicilia in due. Attualmente sono impegnati in uno spettacolo, Miseria e Nobiltà, che viene rappresentato al teatro Zappalà. La prima domanda che faccio a Totti è questo, come mai avete scelto questa volta di cimentarvi in una commedia, tra l'altro una commedia di scarpetta molto importante, molto conosciuta e avete abbandonato l'attività principale vostra che in sostanza è il cabaret oppure le apparizioni televisive soprattutto nel programma di La Rosa. Ma diciamo che non è che abbiamo deciso di cimentarci nel teatro, diciamo che abbiamo deciso di fortificare la nostra presenza nel teatro perché Totti e Dio facciamo teatro, ma nel senso proprio serio della parola, fin dal 1981-82. Solo che poi la fortuna che abbiamo avuto e il riscontro nel pubblico col cabaret e poi con la televisione ha fatto sì che noi proseguissimo in quel filone. Quindi diciamo che il vero amore è il teatro, anche se ormai il pubblico richiede ormai nuove forme di spettacolo e quindi il cabaret è stato quello che vi ha dato le maggiori soddisfazioni. Sì, è vero, però il teatro, specialmente in Sicilia, che è stata sempre una fucina di teatro, il teatro rimane sempre una passione per un attore, per un artista, perché come diceva ieri sera e l'ho uscito, perché mi fa piacere dirlo, la mamma di Franco Zappalà, che saluto è una famiglia straordinaria, mi diceva ieri sera, vedi Totti, il cabaret è una bella risata, una bella serata divertente e tutto finisce lì. Il teatro è vita e allora tu ti puoi accorgere durante una rappresentazione? Che il pubblico può partecipare anche piangendo o ridendo, perché? Perché si immedesima nell'attore, nella storia e quindi la vive come se fosse la sua storia e lì è vita e non posso far altro che sottoscrivere quello che ha detto la signora Zappalà. Parliamo in particolare di questo spettacolo di miseria e nobiltà. Voi avete dato un'impronta di un certo tipo, io purtroppo ancora non ho avuto la possibilità di vederlo perché sono stato impedito, però lo vedrò in questi giorni. Voi avete dato un'impronta particolare perché la vostra presenza imponeva un taglio particolare. L'abbiamo personalizzata. Esatto. Come siete riusciti, diciamo, ad immedesimarvi in questi due personaggi che sono classici del teatro napoletano? Beh, intanto miseria e nobiltà fa parte di quell'antologia di spettacolo che è il classico al quale dovrebbero attingere tutti quanti gli attori. Secondo me dovrebbero creare all'università della risata o nelle varie accademie della recitazione, dovrebbero creare delle materie che sono oggi mi do miseria e nobiltà, domani mi do un'altra opera di scarpetta. Perché lì c'è il nucleo principale di quella che è la comicità e che è una storia teatrale. Noi da sempre siamo stati appassionati da questa storia. Quest'anno si è concretizzato nel 2014 questo progetto grazie alla fattiva collaborazione di Franco Zappalà, che è una persona… Come vi siete incontrati? Beh, con Franco ci conosciamo da sempre. No, dico per quanto riguarda la realizzazione di questo lavoro. Ti sembrerà uno scherzo, ma tutto nasce spesso da una chiacchierata anche davanti a un buon caffè. C'è Barbiano e Barbiano. Sì, ci siamo incontrati, abbiamo parlato, abbiamo detto ma dobbiamo organizzare qualcosa insieme. Siccome noi avevamo in progetto del debutto del Ratto delle Sabine, che è un'altra opera che stiamo circuitando con la produzione del Teatro Stabile di Seno, appunto di Caltanissette, da lì parlando con Franco si accarezzò questo progetto. Siccome lui aveva in vectore di fare misura e nobiltà e noi non ci siamo certo lasciati sfuggire all'occasione. Però abbiamo detto delle cose importanti senza volerlo, nel senso che Franco è riuscito ad accogliere il momento artistico vostro importante e la sua vocazione imprenditoriale, quindi ha unito le due cose e ha realizzato questa cosa che è importante, perché fare teatro a Palermo, in Sicilia, ma in tutta Italia rimane un fatto molto molto difficile. Assolutamente, è vero. Voi vi potete considerare fra i fortunati, diciamo, in questo momento. È vero, ma noi già siamo fortunati. Però cosa possiamo dire a tutti gli altri che fanno questo lavoro con grandissime difficoltà? Perché non dobbiamo dimenticare chi ha difficoltà proprio a fare teatro che lo fa con passione. Ma la nostra grande fortuna intanto è di essere diventati i beniamini del pubblico, perché se tu non riesci a sfondare quella quarta parete importante che è quella che ti distanzia dal pubblico, ben difficilmente riuscirai ad accreditarti presso le famiglie. Oggi un elemento preoccupante, incombente nelle nostre case è il televisore ed è proprio quello che è detta le regole ai tempi di una famiglia. Infatti io dico sempre, specialmente quando sei a casa, a pranzo o a cena, spegnete il televisore e invece occupate il tempo chiacchierando in famiglia, perché lì è più importante. Però se riesci a entrare bene nel ricordo, nella vita delle persone, lì hai vinto. Noi siamo stati fortunati, questo è vero, però c'è di contro anche un fatto. Franco Zappalà che oltre che essere un grande attore, un rampollo di una famiglia molto blasonata come quella degli Zappalà, è anche presidente della Federteatri siciliana, cioè lui oggi parla e interloquisce con tutti gli altri teatri. E gli attori, gli artisti che si vogliono proporre o che hanno delle idee lo possono fare, solo che bisogna avere quell'onestà intellettuale e quella correttezza professionale di portare di fronte al pubblico un lavoro ben fatto, pronto e adatto ad essere presentato. Allora dico, intanto la differenza tra l'attore comico e l'attore drammatico. L'attore comico sembrerebbe in questo momento più avvantaggiato rispetto a quello drammatico perché la gente ha bisogno di divertirsi, la gente vuole allontanare i problemi in un momento così drammatico. Poco prima della trasmissione parlavamo con il professor Armaio, ora ritorneremo su questo argomento delle difficoltà che vivono le famiglie in questo periodo, però tutto questo avvantaggia l'attore comico in sostanza. Sì, in effetti il momento non è dei migliori, anche un biglietto teatrale o cinematografico potrebbe essere un problema per una famiglia, però se una voglia di divertirsi si va a scegliere lo spettacolo e ci va. Certo, l'attore comico è più avvantaggiato perché si dice che è più difficile far ridere che far piangere, anche se ci sono diversi attori comici che fanno piangere, però quello è un altro significato. Noi ci siamo provati a fare un esperimento che fosse anche comico, perché se venite a vedere Miseria e Nobiltà troverete anche uno scorcio di serietà e uno scorcio di passione che è dovuto al fatto che c'è questo papà che rincontra il suo figliolo che non conosceva neanche perché lo ha abbandonato tanti anni fa. Ecco, allora a quel punto lo spettacolo è completo perché c'ha la risata, c'ha il momento comico, c'ha il momento serio, il momento commovente, beh, direi che ci sono tutti gli ingredienti per far sì che uno esca da casa. Però, diciamo, fare ridere è pure difficile perché l'attore comico deve essere comico anche se attraversa momenti particolari. Ecco, come si superano poi? Beh, come si superano? Intanto riesci a far ridere in maniera dignitosa e credibile se sei capace di prendere in giro te stesso. E lì è la chiave di volta perché non ti devi mai prendere sul serio e devi scherzare soprattutto con te stesso. Poi bisogna trattare gli argomenti del quotidiano in maniera abbastanza semplice, abbastanza sciolta. Come avviene questo, diciamo, incontro con Totino? Come si crea la vostra coppia? Ma intanto non l'abbiamo creata noi ma l'hanno creata i nostri genitori perché come tutto il mondo, credo sappia, forse ancora in Indonesia non lo sanno, in Thailandia, ma Totino di Dio siamo cugini in quanto suo papà e mia mamma sono fratello e sorella. Noi ci siamo trovati, non sto malgrado, non sto malgrado. Forse in famiglia, prima scherzavate in famiglia e poi vi siete resi conto che la vostra comicità poteva essere esportata anche all'esterno. Esatto, esatto. Noi abbiamo iniziato giovanissimi all'oratore salesiano del Don Bosco di Via Libertà a giocare con i grandi. Noi allora avevamo 12-13 anni. I grandi per noi erano i 30-35 anni di allora che facevano teatro popolare, ma a livello oratoriano. E noi ci siamo trovati lì a giocare con loro e a provare a fare qualcosa. Ci avevano impegnati a passare gli oggetti di scena o a suggerire le battute. Ma che cosa vi ha fatto capire che la coppia funzionava? Ma non te lo so dire. È un risconto forse. Ci siamo ritrovati lì, abbiamo fatto uno sketch di nostra invenzione e il pubblico ha riso. E poi ci abbiamo riprovato. Poi lo fai con degli automatismi e poi studi e poi ti prepari. Io onestamente però avevo pensato che voi puntavate a copiare per esempio la coppia Franco-Franco e Cicci in Garcia. No, ma quello è impossibile. Ma qualcuno però ve l'ha detto questa cosa. Ma ce lo dicono tutti, ma solo perché c'è un fatto di fisicità e c'è un fatto di essere concittadini di questi due insuperabili e irraggiungibili protagonisti della scena italiana. Paragonarsi a due grandi come Franco-Franco e Ciccio significa essere soltanto dei folli scriteriati. Non è possibile. Oltretutto loro sono stati grandi nel loro momento storico e con i loro testi e con il loro modo di fare comicità. Che non è paragonabile al nostro, perché noi siamo di un'altra leva, di un'altra storia. E comunque quelli si chiamano Franco e Ciccio. Non tentate nessun tipo di paragone. Ma questo che significa che voi non vi volete scimentare mai in un lavoro che loro hanno fatto? Per esempio voi dovevate fare Rinaldo in campo, poi non è stato possibile realizzarlo. E in quel caso voi avreste interpretato due personaggi che già erano stati interpretati da Franco-Franchi e Ciccio in Cassia. Ma sono stati interpretati anche da Burruano e da Cibiletti. Sì, io l'ho vista pure. In quel caso voi non vi siete posti il problema di un confronto che poteva essere dannoso nei vostri confronti. No, perché tutti noi forse siamo anche incoscienti, siamo anche dei ragazzini cresciuti. Però noi facciamo il nostro lavoro con onestà, con dignità e con impegno. Quindi noi anche con miseria e nobiltà non abbiamo, non ci siamo posti il problema che dall'altra parte c'era un signore che si chiamava Totò che l'ha fatto. Noi abbiamo proposto insieme con Franco Zappalà, con la sua regia e regia peraltro dettata da una persona molto intelligente che è appunto Franco Zappalà che ha fatto sì che anche Totine Dio contribuissimo con i nostri con i nostri Lazzi e con le nostre trovate alla realizzazione di questo lavoro. Noi ci siamo posti questo problema. Ho detto facciamo la nostra versione, facciamo sì che le persone guardino il nostro miseria e nobiltà. Se piace bene, se non piace siamo qui ad ascoltare le critiche, ci sarebbe altro. Una domanda che ti dovevo fare sin dall'inizio, ma chi è Toti Mancuso in sostanza nella vita di tutti i giorni? Perché noi vediamo, c'è realmente un problema che riguarda tutti gli attori, vediamo l'aspetto diciamo esteriore al momento della rappresentazione, quindi vediamo il personaggio Toti Mancuso. Ma nella vita di tutti i giorni chi è Toti Mancuso? Non ti chiedo di Totino, poi lo chiederemo a lui. Assolutamente. Io sono una persona normalissima che intanto come schema fondamentale ha quello di non prendersi assolutamente sul serio. Io sono una persona che tutti i giorni vive nella sua città, nella sua regione, si confronta con tutti, con Fruttivendolo, col Pescivendolo, col Bancario. Nella vita quotidiana io sono una persona normale. Se poi le persone mi fermano, mi chiedono l'autografo o la fotografia, io mi fermo perché è giusto, perché siccome sono un personaggio pubblico, le persone mi vogliono bene e me lo dimostrano con questa richiesta, io la devo assolutamente perché è giusto. Senti, sai la cosa che mi torna più strana? Il fatto che voi siete molto conosciuti a Catania. Allora mi chiedo ma com'è possibile, anzi siete forse più conosciuti e più apprezzati a Catania che a Palermo. Allora io mi chiedo, a Palermo siamo voti bene, noi siamo padermitani d'occhio. Il fatto strano, ripeto, è come voi siete ben voluti, ecco mettiamolo in questo modo, come siete ben voluti a Catania. Secondo me la trasmissione solo di La Rosa non basta per giustificare questo apprezzamento che hanno i catanesi nei vostri confronti. Bisogna sapersi comportare. I catanesi dicono, dopo Pino Caruso e Franco e Ciccio, voi siete i padermitani che noi amiamo di più. Ma non è solo un fatto di comicità, attenzione, insieme la famiglia di Antenna Sicilia e Salvo La Rosa ci hanno dato a noi una grandissima opportunità e non finiremo mai di ringraziarli. Noi siamo diventati, tu hai detto Tino, anche al loro contributo. Però noi andiamo in giro per la città di Catania e anche lì ti devi far apprezzare e volere bene. Noi andiamo in tutti i posti della città di Catania per mangiare, per fare la spesa, per muoverci. Le persone ci trattano bene e noi li trattiamo bene. Le persone ci adorano e noi ricambiamo con lo stesso stile con il quale noi ci confrontiamo. Senti, per quanto riguarda i testi che voi rappresentate, lasciamo stare a miseria e nobiltà, però ci sono dei testi più di cabareo, perlomeno quelli che voi rappresentate a Antenna Sicilia, sono diversi uno dall'altro. Come vengono realizzati questi? Siete voi due che li scrivete? È nostra produzione. E dico, come si arriva a questi testi? È nostra produzione. Totina e Dio attingiamo moltissimo dal quotidiano vivere e da tutte quelle informazioni che arrivano. Ecco, se c'è un momento nel quale la guardia di finanza sta calcando di più la mano per la ricerca degli evasori e comunque per cercare di rimettere un po' di ordine in questo ambito, noi ci soffermiamo, ci ragioniamo, ci riflettiamo e cerchiamo lo spunto per far diventare comicità quello che è un fatto quotidiano, ma potrebbe essere legato alle pensioni piuttosto che al rapporto fra marito e moglie o fra padre e figlio. Diciamo in tutti gli ambiti, noi spaziamo in tutti gli ambiti. Poi c'è anche una vera comica che abbiamo e che il buon Dio ci ha voluto regalare e allora da quel punto la mettiamo a frutto, che devo dirti. Senti, poco fa parlavamo delle difficoltà che si vivono in questo momento. Armato addirittura diceva che si vive meglio in Tunisia paradossalmente che qua in Sicilia. Ecco, come genitore, perché tra l'altro tu la prima cosa che hai mostrato ad Armato è stata la fotografia di tuo figlio, la cosa mi ha abbastanza colpito. Quindi da genitore come vivi questo momento? Proprio perché io voglio evidenziare un aspetto diverso dell'attore, cioè l'attore è una persona che ha dei sentimenti come tutti gli altri che è giusto evidenziare nel momento in cui si dà l'opportunità. E questo è uno di quelli in cui abbiamo l'opportunità non solo di fare spettacolo, ma di lanciare messaggi diversi a chi ci ascolta. Un pochettino di umanità ogni tanto non fa male. No, assolutamente, assolutamente. Beh, guarda, io oltre ad avere un bambino piccolo ho anche altre due figlie un po' più grandi di età e il pensiero di un padre e di una madre è quello di rivolgersi sempre al futuro dei figli. Uno per i propri figli farebbe di tutto e di più. Oggi purtroppo le situazioni nazionali e regionali non navigano in buone acque. Stiamo veramente male, i ragazzi preferiscono andarsene via. Parliamoci chiaro, qui non c'è ricambio generazionale. La politica ha fallito sotto tutti i fronti. Il lavoro è abbastanza latitante e quello che c'è sta diventando precario. Il futuro che si profila all'orizzonte non è assolutamente dei migliori. Ci vuole soltanto tanta tanta buona volontà e andare avanti, però ci vogliono anche dei segnali positivi. Non delle prese in giro, come dire stiamo uscendo fuori dal tunnel oppure in lontananza si vede una luce di ripresa. Sono tutte stupidaggini. Al pubblico, al popolo, alla città, alla nazione vanno dette le verità. Ma soprattutto vanno rimboccate le maniche. E l'esempio lo dà un padre ai propri figli. Allora, se c'è un padre in una famiglia, se c'è un padre in un governo, se c'è un padre in una nazione, quel padre deve dare l'esempio. Se non dà l'esempio non sei credibile. Senti, per quanto riguarda la satira politica, voi come la vedete? Vi siete cimentati nella satira politica? Io onestamente vi ho seguito poco da questo punto di vista. No, 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 abbiamo deciso. Non l'abbiamo mai preso in considerazione. Quindi allora l'avevo notato bene. Sì, sì, sei molto arguto. Anche perché, tra l'altro, ti sarai reso conto che i politici sono i più grandi comici della storia dell'ultimo trentennio. Per cui non possiamo competere né con i loro testi, né con la loro bravura. Sono dei comici assolutamente valenti. Ma ci sono altri motivi? Cioè, voi volete rimanere... Per esempio, io ho pensato, loro vogliono rimanere lontani dalla politica. No, 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 non ci interessa, non ci interessa la politica. Prima di tutto perché non ci interessa... Io, per esempio, devo confessare ho difficoltà a fare la trasmissione di carattere politico. Ah. Perché la gente non li segue. Tant'è vero che... Ma hanno ragione. Tant'è vero che ho preferito fare la trasmissione dalle cucine, dai ristoranti. Bravo. Perché ho visto che quelli hanno più successo, però purtroppo l'informazione deve esistere e quindi... La politica, come ti ho detto prima, ha fallito sotto tutti i punti di vista, su tutti i fronti. Quindi anche oggi un telegiornale che ripete soltanto le stesse storie e addirittura una storia, se è quella, viene raccontata in 18 salse diverse, che poi alla fine il pubblico si confonde e dice Scusa, ho visto 18 telegiornali, ma com'è che la stessa notizia è raccontata in 18 modi diversi? E anche la politica stessa si frantuma e lotta contro se stessa. Non è credibile. E allora noi perché dobbiamo prendere questo tipo di politica per farla diventare spettacolo? Preferiamo parlare, appunto, della vita quotidiana che coinvolge tutte e nella quale si raffigurano tutti quanti? Allora abbiamo il conforto di avere il pubblico che dice, viero, ragione, è da così. Però la tentazione alcune volte c'è perché tu cammini per le strade palermitane ma anche quelle catanesi e alcune volte si notano, diciamo, tutta una serie di fatti e cose, insomma, che andrebbero criticate in maniera forte. In questo caso voi riuscite ad astenervi sempre. Sì, 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 sì. Ma lo facciamo, guarda, senza neanche soffrirci e senza neanche doverci impegnare perché è una specie di diktat che ci siamo imposti, tottino e Dio. La politica, oddio, ogni tanto abbiamo scimmiottato, per esempio, una battuta che facciamo in quest'ultimo periodo è quello che la Sicilia sta tenendo banco in tutta Italia. Il teatro siciliano si replica in tutta l'Italia. La dieta mediterranea, che prima era una cosa nostra, adesso viene presa a suffraggio dai nutrizionisti. Mondiale, è una mondiale. Sì, ma io rimango in Italia e dico al nord Italia i leghisti, che per dogma sono contro il sud, oggi adottano la dieta mediterranea perché fa bene alle arterie, fa bene al corpo umano. Ora si sono fregati pure la mafia. Dicono che la mafia ora è capitale. Dico, scusatemi, prima pensavamo che fosse cosa nostra, invece ora è cosa di Romani. Chi mi arristo hanno agito? Per il futuro avevamo Mondello, avevamo la Playa e vabbè, noi diventiamo, come facciamo? Ecco, ogni tanto qualche battuta, però ritorniamo al ragionamento, io voglio far emergere più l'aspetto, diciamo, umano di Toti. Vediamo se ci riesco, quali sono i sentimenti più forti che deve avere un attore nel momento in cui sceglie di fare l'attore. Quanto vale per esempio l'onestà, la sincerità, questi sentimenti mi interessa sapere. Questi sentimenti che dovrebbero... Anche se probabilmente ti sto facendo un'intervista anomala. Sì, è vero, devo dire che la verità sono poche delle volte che ho ricevuto domande del genere. Insomma, se io ti faccio domande che ti fanno tutti gli altri, non significa... Sarebbe scontato. Io invece voglio far emergere un aspetto diverso dalla persona, a me interessa più la persona, quello che c'è all'interno, perché l'attore ha sempre una maschera. È vero. Però che cosa c'è all'interno, dietro alla maschera? È vero, è vero. Beh, i tuoi sentimenti e onestà sono dei valori che una persona deve portare con sé in ogni lavoro, in ogni professione, in ogni arte. Nel teatro ancora di più, perché nel teatro siccome tu rappresenti la vita, e allora lì devi essere ancora di più credibile. E per essere credibile ti devi preparare bene. Io dico sempre che bisogna andare a scavare nell'anima del personaggio che vuoi interpretare. Se tu vuoi interpretare il povero, devi andarti a cercare dentro la sua anima che cosa è il povero. E devi essere credibile, perché la gente vede in te la rappresentazione di una vita, di una persona. E lì lo devi fare bene. Poi ovviamente... In Miseria e Nobiltà, ritorniamo in Miseria e Nobiltà, tu sei povero e poi diventi ricco. Beh, ma sei ricco, attenzione, sei un ricco parvenuto, non sei un autentico ricco. Perché guarda che... No, perché la domanda è, chi è povero poi per diventare ricco, ma parliamo sempre di sentimenti. Assolutamente. Questo dico, perché i soldi, insomma, poi in sostanza contano sino a un certo punto, anche se sono molto importanti. Però l'intimo di una persona come può cambiare? Ma guarda un po', un povero, se diventa ricco, ed è il classico parvenuto come dicevo prima, può comprare di tutto, può comprare civile, macchine, piscine, tutto quello che vuoi tu. Ma la cultura, l'essere quello che non è, non se lo può acquistare. Certo, può migliorare, assolutamente sì, e questo è tutto, gli farebbe onore. Ma non può acquistare quello che non è. Così come il ricco, se dovesse trovarsi in una situazione di marcia indietro, cioè di ritornare indietro e trovarsi povero, e non più con i mezzi che aveva a disposizione prima. Ma ben difficilmente si troverebbe a vestire i panni del povero, perché non lo è mai stato. E allora... Ritorniamo all'arte. I programmi futuri, insomma, intanto mi interessa sapere se voi volete, insomma, ripresentare, ripetere l'esperienza di Miseria e Nobiltà. Se nel futuro ci potrà essere qualche altro lavoro tipo Miseria e Nobiltà con voi impegnati. Guarda, questa settimana abbiamo concluso il primo giro di rappresentazioni e ogni sera noi annunciamo al pubblico che per la prossima stagione saremo presenti di nuovo al Teatro Zappalà con un nuovo lavoro, perché Franco ci ha chiesto anticipatelo subito e diciamolo subito così gli abbonati e così il pubblico... Abbiamo già individuato il lavoro. Sì, abbiamo già individuato il lavoro. Non lo possiamo dire. No. Non possiamo dirlo. Quindi noi saremo, continueremo ogni anno sempre con un lavoro teatrale. E in più continuerete la vostra attività. Proseguiamo le repliche delle commedie già messe in scena. Continuiamo con gli spettacoli di Cabaret. Pensate di portarlo in giro pure. Sì, 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 assolutamente sì. È prevista una circuitazione dei lavori teatrali, così come è previsto il continuamento del lavoro televisivo e di Cabaret. Assolutamente. Qual è il sogno nel cassetto, così per concludere, di Totti Mancuso? Di lavorare il più possibile, di stare il più possibile sul palcoscenico. Fino a quanti anni? Cioè, intanto Albertazzi fino a 90 anni. Ma guarda, io la settimana scorsa sono andato a vedere lo spettacolo di Pippo Pattavina. Cioè, il teatro allunga la vita. È vero, è vero. Per chi ti mantiene giù. Sono andato a vedere lo spettacolo di Pippo Pattavina. È bravissimo. Che ho avuto il piacere veramente di applaudire. Poi alla fine ho chiesto, Pippo, quanti anni hai? E mi ha detto la sua età, che non è un segreto. 76 anni. L'ho guardato e ho detto, porca miseria, allora ne abbiamo di strada. Dice, ancora ne hai di strada? E io la voglioci, ti devi solo divertire. Forse Pattavina meritava di più per la bravura. Ma Pattavina ha avuto molto. Se è dov'è, perché vuol dire che lui è in pace con se stesso. E allora se una persona è in pace con se stesso deve stare dove sta. Perfetto. Io ti ringrazio per questa. Grazie a te. Mi scuso se siamo andati oltre. Io desidero porgerti i saluti di Totino, che mi ha pregato, l'avrei dovuto dire all'inizio, lo dico alla fine. Saluto il pubblico di questa evitante, saluto Filippo Cucina, e vi saluto a Totino tantissimo. Io vi aspetto assieme quando ci sarà. Senz'altro, nella prossima occasione. Con molto piacere. Intanto ti ringrazio. Ringrazio i telespettatori. Buonasera a tutti. Grazie a tutti, grazie.